Buonasera a tutti, questa presentazione del progetto del People Move parte da una considerazione dal fatto di quali sono gli obiettivi principali che ci siamo prefigurati. Innanzitutto è costituire una connessione importante per il trasporto pubblico locale collegando i nuovi parcheggi scambiatori con il centro cittadino, produrre dei benefici ambientali grazie alla diminuzione del traffico veicolare, poi saranno visti in estrema sintesi, e migliorare ovviamente l'accessibilità ferroviaria e il collegamento con l'aeroporto. Questi sono i tre obiettivi principali del progetto. Partiamo dalla scelta della tecnologia. La scelta della tecnologia è stata fatta nello studio di fattibilità e nel progetto preliminare così come è prescritto dal codice dei contratti e quindi sono state analizzate diverse possibilità. Le possibilità sono essenzialmente quelle considerate il potenziamento dell'attuale sistema ferroviario, il potenziamento del trasporto pubblico su gomma, oppure l'aduzione di un sistema di personal rapid transit che è in pratica un basato sull'impiego di piccole vetture automatizzate. Siamo andati un po' per esclusione, i progettisti sono andati per esclusione per questi motivi. Il potenziamento dell'attuale sistema ferroviario è stato escluso perché c'era la necessità per poter avere un incremento di frequenza come volevamo di ulteriori tracce ferroviarie e questo non era possibile. Inoltre con il potenziamento dell'attuale sistema ferroviario non era possibile introdurre una fermata in intermedia per i parcheggi scambiatori che invece abbiamo visto che sono fondamentali nella logica di tutto il sistema. Per quanto riguarda il potenziamento del trasporto pubblico su gomma, anche in questo caso qui c'è stata un'esclusione per il fatto che per poter assicurare delle elevate frequenze c'era bisogno ovviamente di aumentare notevolmente il livello di carico sul quartiere perché bene o male poi gli autobus dovevano passare da via dell'aeroporto, per cui anche questo è stato escluso. Il personal rapid transit è stato escluso perché essendo un sistema che prevede l'impiego di piccole autovetture con capacità limitate ovviamente c'era un allungamento dei tempi che non era compatibile con gli obiettivi che ci siamo prefissi. Nell'ambito quindi è stato scelto l'APM, l'Automatic People Mover come sistema complessivo. All'interno dell'APM si poteva fare anche altre scelte. Le tre categorie essenzialmente sono la tecnologia fune, la tecnologia con motore a bordo e la tecnologia con monorotaia. La scelta della tecnologia fune deriva essenzialmente da due considerazioni. Una è la maggior capacità del sistema di trasporto che risulta ovviamente legata alla frequenza e alle dimensioni dei veicoli e al rapporto quindi fra passeggeri e metri quadri a disposizione all'interno del veicolo. Quindi l'APM con tecnologie a fune assicura una maggiore capacità. E non ovviamente molto importante era anche il risparmio economico della tecnologia a fune rispetto ad altre tecnologie perché si sta parlando del 30% dell'investimento complessivo a parità di livelli che ci siamo detti e a parità anche di costi di manutenzione. Quindi la scelta nel progetto preliminare è stata quella di un'APM con tecnologie a fune. Altro aspetto molto importante è l'intermodalità come aveva già accennato comunque il sindaco. Da questa slide qui vediamo che cosa? Vediamo che noi partiamo dall'aeroporto, l'aeroporto ha una presenza di passeggeri anno di circa 4,5 milioni e la linea del people mover è questa linea nera che poi vedremo in dettaglio e che arriva fino alla stazione ferroviaria attraverso una fermata a parcheggi scambiatori. Alla stazione, che è una stazione diciamo molto importante anche a livello nazionale, una delle prime medie stazioni con 18 milioni di passeggeri l'anno, dalla stazione c'è il collegamento diretto con il capolinesso urbano, cioè il progetto sesta porta in sostanza. Il progetto sesta porta è a 150 metri a piedi e direttamente collegato con la stazione ferroviaria di Pisa. Dalla stazione poi si diparte che cosa? Si diparte l'asse pedonale, l'asse pedonale che attraverso Corsitalia, il Ponte di Mezzo, Borgo, Piazza dei Cavalieri e via Santa Maria arriva fino al Duomo. A questo si aggiunge il fatto che c'è la progettazione preliminare in corso della cosiddetta metrobus, che è in pratica una linea preferenziale su corsia riservata che dalla stazione porta a Cisanello, al nuovo ospedale, all'incremento dell'ospedale e alle nuove attività che sono previste su Cisanello. È una linea che anche in questo caso qui essendo un progetto preliminare deve essere in qualche maniera scelta la tecnologia. Può essere una bus via, può essere una filovia, può essere una metropolitana leggera, però verrà scelta all'interno delle considerazioni che sono fatte nel progetto preliminare. Altra cosa molto importante, uno degli elementi che abbiamo detto è la diminuzione dei flussi veicolari, l'impatto sul centro urbano. L'obiettivo era quello di ridurre l'accesso dei mezzi privati in città e quindi essenzialmente da sud e da est, quindi da Livorno e da Firenze. Dall'analisi trasportistica che sta alla base del progetto del People Mover ha evidenziato che con l'introduzione di questo progetto qui probabilmente si trasferiranno da gomma a rotaia circa un milione di utenti l'anno. Un milione di utenti l'anno è il 20% del totale e quindi è un risultato molto interessante. Come vedete Pisa è una città che ha al nord i parcheggi scambiatori e quindi va bene per la parte nord, per chi viene da Viareggio, chi viene da Lucca e San Giuliano, Pietrasantina, Paparelli e Pratale per circa 1500-1800 posti auto, mancava completamente di un parcheggio lato sud che potesse in qualche maniera intercettare i flussi di traffico da Livorno e da Firenze. Il parcheggio inserito nel progetto People Mover per 1500 posti è ovviamente, come si vede anche dalle frecce, è in corrispondenza dell'Aurelia ed in corrispondenza dell'uscita della FIPILI e quindi è perfetto. C'è da ricordare che a Pisa ogni giorno le punte massime ma sono abbastanza costanti di ingresso di autoveicoli nell'ambito delle 24 ore circa 90.000 autoveicoli in ingresso a Pisa con una stima di circa 65.000 che vengono fuori dal comune di Pisa. Quindi è importante riuscire a intercettare per quanto possibile i flussi di auto per riuscire a decongestionare il traffico. Le procedure di gara, velocemente. Siamo partiti da una concessione di lavori pubblici, in sostanza abbiamo messo in gara una concessione di lavori pubblici dove è previsto la progettazione definitiva esecutiva, la costruzione e la successiva gestione dell'intervento per un tot numero di anni. Ci sono dei dati di gara, il contributo pubblico in conto capitale che è quello della comunità europea, un contributo anno in conto gestione che viene dato dalla regione, un livello, abbiamo messo in gara il livello iniziale della tariffa, abbiamo messo in gara la durata della concessione, il valore residuo non ammortizzato al termine della concessione doveva essere non superiore a zero, cioè alla fine della concessione doveva essere tutto ammortizzato e il capitale sociale doveva essere un capitale consistente perché l'investimento è un investimento consistente, quindi non inferiore a 10 milioni di euro, il tir di progetto, il tasso interno di rendimento era stato valutato intorno all'8%. Il criterio di aggiudicazione di questa gara è stato quello dell'offerta economicamente più conveniente, determinata da una secondo la legge e quindi c'è il codice dei contratti. Quali sono stati i criteri di valutazione e i pesi? Diciamo i criteri di valutazione per cercare di accelerare le varianti migliorative al progetto, preliminare posto a base di gara per 30 punti, la qualità nell'esecuzione delle opere per 15 punti, la qualità dell'offerta gestionale, quindi la qualità degli standard e dei servizi offerti per 15 punti, il contenuto della convenzione di concessione e la parte economica che in qualche maniera presupponeva l'offerta per la durata della gestione del tir di progetto, la riduzione delle tariffe e la riduzione del contributo in contogestione oltre che dell'equity o capitale sociale. I risultati della gara, ecco qui da considerare abbastanza, da porre in evidenza i tempi. Noi abbiamo pubblicato, la Pisamo perché poi la stazione appaltante è la Pisamo, il concedente è il comune di Pisa, abbiamo pubblicato il mando a ottobre del 2011, poi come vedremo già a marzo avevamo fatto l'aggiudicazione provvisoria. Chi ha partecipato alla gara? Hanno partecipato alla gara due raggruppamenti, due raggruppamenti importanti, un'associazione temporanea di imprese tra Lightner, la società italiana per condotte d'acqua, la Inso e Agudio, l'altra contendente era Latifra Doppelmayr, la CCC e il Consorzio Toscano Cooperative. I risultati sono stati poi che chi ha vinto la gara è l'associazione temporanea di imprese con capogruppo Lightner, a marzo abbiamo proceduto all'aggiudicazione provvisoria, a giugno all'aggiudicazione definitiva e il 31 ottobre del 2012 è stato firmato il contratto e da lì sono partiti i tempi contrattuali. Il contratto, questo evidenziato in rosso, è importante evidenziarlo proprio perché prevede il finanziamento dell'intervento da parte dell'ATI che ha vinto, oltre ovviamente al finanziamento dell'europeo e al contributo in contogestione, ma alla fine dei 30 anni che sono previsti dalla gestione tutte le opere ritornano nella disponibilità dell'amministrazione. Chiaramente come viene finanziato? Viene finanziato con le tariffe, l'ATI si finanzia con l'esazione delle tariffe del people mover e dei parcheggi scambiatori. Questa è la classica concessione dei lavori pubblici. Quadro economico del progetto, anche questo credo sia un aspetto importante perché si sentono dei numeri un po' strani. Il complessivo dell'investimento sono 68 milioni. Di questi 68 milioni però quello che riguarda il people mover sono 35 milioni. Cioè 35 milioni è la tecnologia del people mover e compreso anche le opere civili connesse e quindi anche il sovrappasso, la parte insoprelevata eccetera. Ci abbiamo 10 milioni di euro di parcheggi scambiatori più ovviamente le altre spese che sono in qualche maniera diciamo poi devono essere suddivise fra il people mover e i parcheggi scambiatori. Il progetto, la lunghezza complessiva del tracciato sono 1,8 chilometri con una stazione in pratica la stazione dell'aeroporto, la stazione un deposito locale di manutenzione che poteva anche essere ubicato e infatti nella proposta è ubicato dove c'è la fermata intermedia del parcheggio e la fermata lato alla stazione centrale di Pisa. I requisiti, alcuni numeri, 1.840 metri, la lunghezza al raso sono 1.400 metri, la lunghezza in quota sono 440 metri, le fermate sono 3, la capacità 800-1.000 passeggeri ora per ogni direzione, la frequenza sono 5-8 minuti, l'orario di esercizio che abbiamo imposto sono 18 ore, il grado di affidabilità che abbiamo imposto e che è stato migliorato è di 99,5%. Le tariffe, le tariffe offerte in gara che sono state ovviamente oggetto di valutazione sono queste, per il people mover la corsa occasionale da lunedì al sabato è 2,5 euro, IVA comprese, la domenica o festivi è 1,10 euro e la corsa residenti comunque sia per tutta la settimana da lunedì a domenica compresi è 1,10 euro, quindi è in pratica la tariffa del TPL. I parcheggi scambiatori, la tariffa è 2,5 euro al giorno compresa la sosta e compreso però anche i biglietti, 4 biglietti per il people mover, andate e ritorno. Questo per incentivare ovviamente l'utilizzo dei parcheggi scambiatori perché uno degli obiettivi è quello di cercare di portare meno traffico all'interno della città. La domenica o festivi, come tutti gli altri parcheggi di Pisa, i parcheggi scambiatori sono liberi, è chiaro che a quel punto paghi perlomeno il biglietto del people mover che è 1,10 per la domenica e per i festivi. La tecnologia a fune è un sistema che prevede il movimento dei convogli tramite un sistema di funi dove i vagoni vengono agganciati alle funi. In questo caso qui la tipologia delle infrastrutture è in parte sopraelevata e in parte a raso, i veicoli sono previsti con ruote di gomma e questo anche nei riguardi del rumore è un aspetto ovviamente importante, la trazione è garantita dalla fune e la velocità a media di 10 metri al secondo. Infrastrutture simili esistono a Perugia e Venezia e sono comunque degli automatic people mover a fune. Alcune foto del vagone, del convoglio, alcuni particolari delle pulegge della fune e dell'assale con le ruote in gomma. Questo è un video che mostra in maniera credo abbastanza puntuale cosa vedremo poi anche dall'interno del veicolo nell'attraversamento del tragitto aeroporto stazione. Quindi si commenta da solo. Questo è un video di gara che faceva parte dell'offerta di gara da parte dell'ATI Leitner condotte Inso Agudio. Questa è la partenza o l'arrivo all'aeroporto, la scala mobile che serve per l'accesso al check-in. Ecco da notare che ci sono delle porte automatiche che impediscono in qualunque momento il contatto diretto fra l'utente e i binari del people mover. In sostanza si aprono le porte quando c'è il people mover. Se non c'è il people mover, se non c'è il convoglio, le porte non si aprono. Questo è l'interno dei convogli, questa è la FIPILI, il passaggio sotto il viadotto della FIPILI e c'è la fermata a parcheggi scambiatori. Sempre la fermata a parcheggi scambiatori dove c'è l'andata e il ritorno, il binario è unico e solamente in corrispondenza dei parcheggi scambiatori ci sono due linee e queste due linee si intescambiano in corrispondenza dei parcheggi scambiatori. Le due linee sono indipendenti una dall'altra, cioè vale a dire il trefolo, la fune, c'è una fune per la linea destra e una fune per la linea sinistra in maniera tale che nel caso in cui ci sia un problema su una delle linee può andare comunque l'altro convoglio. Questa è l'arrivo a Pisa Centrale, questo che vedete qui è il binario 14 e questo è l'arrivo del PIPILI. Andiamo avanti un attimo, vabbè qui ci sono alcune slide, alcuni rendering che comunque avete visto quindi si va velocemente, fermata aeroporto, la sezione della fermata aeroporto perché arriviamo in quota, da notare come la quota della banchina sia alla stessa quota del convoglio e questo ovviamente favorisce chi ha roba pesante, chi ha il trolley eccetera eccetera, chiaramente è alla stessa quota e quindi non ci sono problemi di solita. La fermata dei parcheggi scambiatori, perché questo ponte? Perché questo è un sovrappasso, è il sovrappasso ciclopedonale che conduce da un parcheggio lato est al parcheggio lato ovest, c'è un parcheggio di 500 posti lato ovest e un parcheggio di 800-900 posti lato est, che sono messi in comunicazione attraverso questo percorso ciclopedonale con ascensori e con rampe. Fermata parcheggi scambiatori, le pensiline a livello della fermata parcheggi scambiatori e questa è la fermata stazione centrale, con un'unica pensilina che prende in pratica anche il binario 14 e quindi qui abbiamo il people mover e qui abbiamo il treno nel binario 14. La sostenibilità ambientale, molto importante, alcuni aspetti fondamentali sono la trazione elettrica, accorgimenti per la mitigazione vegetazionale che sono stati fatti durante la progettazione e chiaramente vengono sparsi su tutto il percorso. La riduzione dell'inquinamento acustico attraverso l'implementazione di accorgimenti tecnologici che servono a ridurre il rumore, per esempio l'appoggio delle rotaie su materiali resilienti, l'insonorizzazione dei locali argani eccetera. Nel progetto è prevista l'autoproduzione dell'energia elettrica mediante impianti fotovoltaici sui parcheggi, l'impianto solare termico per la produzione d'acqua calda sulle varie stazioni, l'illuminazione a led e la telegestione degli impianti di illuminazione pubblica, questo sempre per riuscire ad avere economie di scala. È stata posta attenzione anche alla fase del cantiere, la fase del cantiere prevede che il campo base, il campo da cui parte la realizzazione è ubicato in corrispondenza dei parcheggi in maniera tale che si esclude le interferenze col quartiere, usufruendo di che cosa? Usufruendo in pratica dei binari, della viabilità sui binari esistenti. E poi c'è anche la riduzione della movimentazione delle terre attraverso la caratterizzazione in banco delle terre le stesse, questo elimina tutta una serie di movimenti che altrimenti dovrebbero essere fatti. Sostenibilità economica l'abbiamo già detta, ripetiamola, non graverà sulla finanza perché il progetto è finanziato in parte dai soci privati e in parte 27 milioni circa grazie ai fondi comunitari. La durata della concessione è di 33 anni e 8 mesi, di cui 3 anni per la realizzazione. Il contributo in contogestione è di 500, offerto a base di gara c'erano circa 800 mila euro, però è stato diminuito e l'offerta prevede 578 mila euro, con la possibilità di ridursi questo nel caso in cui il PEF andasse più che bene e quindi si è risparmiato in sostanza il denaro pubblico. Qual è il cronoprogramma? Noi abbiamo firmato la convenzione il 31 ottobre del 2013, la progettazione definitiva è in corso e finisce da impegni il 28 febbraio del 2013, data importante è il 17-4-2014 perché è a quella data lì che RFI si è impegnata a consegnare il binario per poter eseguire lavori. Questo cronoprogramma prevede che, se verrà rispettato, ma credo bene di sì, che il 29 ottobre del 2015 si possa avere l'inizio del servizio, quindi entro il 31-12 del 2015 e quindi il 2012. Vi ringrazio.